Non vieni poco, non eri tutto. Vittorio, hai un'azione più con te quando l'ho fatto. Avremo giocato. Mi sembra apprezzato. Invece l'addo subito. Vabbè, spunta una spia, all'inizio spunta sempre questa spia già. Stai un bravo punter. Vieni, no? Siamo un bravo a battere i polli laterali. Allora, li atto si a butta anche in. Quindi io indico a sinistra e tu la dai al centro. Allora, bello, là. Ribatte il difensore. Ragazzi, m***a. Come ti chiami? Allora, tu sai? Ma con le due, tu non fai niente. Ci passi attorno. Non sono solo tre quarti. Samu eletto. Caccia di punizione. Occhio per Roberto Carlos. Interessante. Calcio di punizione. Diamo come c'è emozione. Possono passare. Buona idea. Senza problemi. Andiamo da tagalata la palla. Ma non ci sono solo... Ma è tocca di un seto. Si fa i fatti suori. E' in buona posizione. 1-0. C'è il gol e lontaggio. Comunque lo stesso modulo che ho messo io è bello. Vitti Reddy. Min***a. Si propongono tutti subito. Il problema è che nei minuti finali poi... Ho un po' di problemi, ho la squadra proprio che la sento che mi vola, ma il problema è che arriva nello scoperto dietro, si trova quello bravo bravo, e nei minuti finali, adesso è la butragame come si propone, non correva mai così il butragame. Non rivedere pure la tattica, è da un mese, hanno numeri per i giocatori dietro la schiena, hanno numeri, hanno una scritta di corroccio, uno chiaro. Rientra, l'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. E che cazzo, un vabbè, minchia fuori, ragazzi, c'è lo il cane. Occhio al pallone per Neymar, se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pier, è da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Non mi dia, dai tassi direzionali. Palla pericolosa, bravissima qui. Renato Sanchez, la domestica Neymar. Manca la scontra da sopra, con chi ha i ticolori. Premia la corsa sulla fascia. Si libera bene qui. E cazzo fai, come minchia te chiamano Natale. Sceglie l'appoggio. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. Il corner di Neymar in mezzo. Non me lo dà, io vado a fare il pene. Conta il bacio, perché magari non c'è il pene. Non me lo dà, io vado a fare il pene. Da lì che sto combinando, perché poi devi sapere che io, ma vado a complicare io la vita. Ma in ganna di una... Atal sta nella terra di nessuno. E non so, deve la giara. Perché se no finì. Ma si fa a giocare così? Guarda la passaggio che mi ha fatto pure. Io staccherei io. Sono cagato alla minchia già prima di cominciare. Devo sentire una nullità. Tutto fisico per il possesso palla. Pallone che è terminato fuori, possono andare dalla bandierina. Pallone che è arrivata fuori, è diventata una mo' viola. Scambia corto sul compagno. Tutto è un palagga. Ma a te non ti larga? Sì, certo, sì. Può essere che non mi larga. Mi spuntano al palato. E che devo dire? Io gioco, continuano a fare a me filmare. Ma poi, per te, ho avuto sempre la palla con noi che non mi larga. Quando lagga, cerco di fare i passaggi più semplici possibili. Perché poco fa, in difesa, mi ha andato a Keren. Ora pur, ma di brutto. Sanchez! Palla respinta dal difensore. Se ripartirà con una rimessa laterale. Da lì può andare col cross. Riconquista una palla. Quello, tre ore a salire a Tantran, tranquilli. Entra con decisione. Lo sapevo io, io lo sapevo. Non va bene. Ma io tu ti rivolgo, da fuori. Ho fatto il cross for te tesoro, veramente. Solo per provare la cosa che l'avevo fatto subito. E me l'ha preso dopo che era arrivata al limite... Della linea di fondo. Sì. E tu. Cervigno. La respinta di Pugno. E il portiere recupera il pallone. Non solo sul secondo palo. Chi la dà in mano. Neymar lateralmente. Bravo qui a smarcarsi. Bravissimo qui il difensore che recupera. E sarà ancora angolo. Ma tocca vicino verso il compagno. Lo vede. È in buona posizione. Si immola il difensore. Sceglie l'appoggio. Palla ancora in calcio d'anca. Corner battuto corto. E dopo la fine della prima frazione dunque... Due a zero. Squadre che tornano in... Squadre di nuovo in campo con i Terriers a caccia della rimonta. Dallì. Cazzo c'entra il Miraiatal? Io dico ma cosa c'entra? Ua! Ottimo intervento del portiere. Palla che finisce in corda. Palla in area di rigore. Ci mette i pugni a lontana. Pressione qui sul portatore di palla. Ho trapassato qualcuno. Vabbè, è normale. Vedi, scanzala davanti. Ho messo il... C'è un pigetto triangolo. Quindi è un quadrato. Vabbè fatto la scivolata. Tagli e mezzo. Oh, guarda che rete che ha fatto! Vada. Il pallone del nero uno. Devono scostare queste occasioni se vogliono... Ma che vuol dire? Si levò. Se ne andò in avanti. Ma dove? Cioè tu stavi entrando dentro l'aria e lui è uscito dall'aria. Butraghegno. Possesso di palla. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Quello è fuori gioco. Dove ragazzi entra? E tu? Che classe è questo il giocatore? Grande classe. Eccano fortini che risponde presente. Eh ma... E' la seconda vota. E' la seconda vada la palla contropa. Llovello di Parella. Blocca la palla. Un cross a 2 all'ora. Ad诌 tutto il difensore. Ottimo intervento. Forza. un'altra chance da calcio d'angolo, la mette in mezzo, calcio d'angolo battuto male, palla racconto la vista vabbè butchè, ma cagata la minchia, proprio Torrico pallone uscito sarà, rimbio dal fondo non hai capito? Gervinio lo comando fino a stare lì davanti non la piglia ah strano che non hai segnato, perché ho la prima palla contro e ci volevo ha avuto il duello con l'attaccante, neutralizzando la conclusione, ipnotizzato possono ripartire in contropiede ma guarda quello che passaggio che fa a spazio prova, c'entra in pieno il difensore no quello se ne va la mette in mezzo con questo pallone se fosse entrata qui veniva il gol stadio oh un gol al volo e pur sempre un gol al volo Pierca è da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante dov'è a cagare dov'è a cagare manca la scivolata da fare la fara è un ai è 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 non c'è nessuno collegato a mare qualcuno ha controllato giusto mia madre sta vendendo l'isola dei famosi la pallatata vuole regalare perché non so a chi darla in questi casi la mania uh minchia dei movimenti fanno i giocatori dai c'è la che ho combinato cioè quello un chiodo un chiodo mi sembra il mio giocatore nel girarsi scopre lungolinea canzero lo scopre perché mi fa il centrale va bene nuovo poco fa ma calare ora dove va bene prendiamo voluzione vale tutti i fuori tempo un filtrante sono usciti tutti male guarda si ma comunque sia la palla ti passa lo stesso la prima volta no la seconda si minchia cos'è schi ma poi me la fai mai minchia vedi perché mi manca nema da venta di tiro che bella no mai ritengo si sta dimostrando il dodicesimo uomo in campo gran dribbling continuiamo a sbagliare qua in zona centrale va bene va bene guarda che passaggio che fa quello figurati lo fa leggermente lento per farla salvare figurati una volta che ha insisto un pallonetto fuori gioco che ci sta tutto dove a temporeggiare invece di puntare subito verso la porta un mese che cederà il capito la rapa io rompo l'analogica la passa alle porterà a terra già fa scherzo alla piena siamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3 a 2 giocherà ancora per due minuti partita agli sgoccioli può essere una delle ultime occasioni si è sbagliato è classico e qualità è stato era meglio staccare finisce qui ottimo risultato anche grazie al fattore campo il tecnico può essere contento sia del risultato che dell'atteggiamento della sua squadra ma di giudano guardo la si vanno la mano si vanno che il pop è una pochetta si vengono ma perché la parata fece il pop e comunque ho fatto 11 tiri a a